Abbiamo dedicato diversi video alla figura di Aristotele, un grande filosofo dell'antichità, uno dei più grandi forse anche in generale di tutta la storia della filosofia e ci siamo anche a lungo soffermati sulla sua logica, vedendo se vi ricordate i termini, le proposizioni, i sillogismi, eccetera. Però quel discorso che abbiamo fatto in maniera abbastanza dettagliata non era ancora del tutto completo. Rimane una nota a margine che però può essere interessante approfondire e che oggi cerchiamo di approfondire perché oltre al sillogismo che Aristotele chiama scientifico, quello su cui ci siamo soffermati, abbiamo visto tutte le varie figure, come si costruisce, eccetera, come si trovano le premesse, eccetera, oltre a quel sillogismo lì che sicuramente rappresenta il contributo più importante di Aristotele allo studio della logica, ci sono anche altri sillogismi che Aristotele individua, i sillogismi non dimostrativi, i sillogismi non scientifici. Aristotele li analizza per farci capire anche che certi ragionamenti funzionano bene, secondo lui sono corretti e ci permettono di arrivare a verità, certi altri, proprio per come sono strutturati, proprio per anche le finalità che si pongono, non portano a verità. E oggi li vediamo, vediamo cosa diceva Aristotele riguardo a questi sillogismi non dimostrativi. Andiamo a cominciare. Un sesso di caffè nella solita tarta con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio sempre l'apertura di ogni video, ormai ci sono come sempre i miei soliti compagni d'avventura cioè Topolino, Tostoi, Batman, De Andrei, il mostro peloso, il cuscino, quest'altro mostriciattolo qui. Io mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e da due anni e mezzo ormai su questo canale realizzo video spiegazioni di storia e di filosofia che ripercorrono generalmente il programma che si fa alle superiori ma che sono utili da quanto mi scrivete anche voi, molto spesso anche all'università per preparare esami, per i concorsi universitari e poi anche semplicemente per chi è curioso, perché è appassionato di queste materie e vuole ristudiarle, riscoprirle in maniera abbastanza metodica. Se guardate in descrizione trovate le playlist principali tra cui anche proprio il corso di filosofia in cui ci sono in ordine dalle origini, fine giorni nostri, ormai più di cento e passa video, parecchi video, sulla storia della filosofia, quindi potete iniziare dalla scuola bionica di Mileto, dalle origini, far tutto Aristotele, Platone, Aristotele eccetera, arrivare fino ai filosofi di pochi anni fa, addirittura qualcuno morto recentissimamente e c'è una buona programma, che c'è quasi tutto, c'è qualche cosina ancora da mettere a posto ma una volta stiamo completando e anche oggi, come vi dicevo, la lezione serve a completare e a mettere la parola fino a un tassello. Alla logica di Aristotele abbiamo dedicato, infatti come vi dicevo, a vari video, in descrizione vi metto proprio, che so, il video sul silogismo che è quello più complesso, è stato uno anche dei primi che ho realizzato più di due anni fa e quindi era ancora un po' spartano nel montaggio, nell'impostazione, però penso che sia ancora efficace perché c'erano anche molti esempi, era molto esemplificativo di come funzionava il silogismo e in quel video appunto abbiamo mostrato questo ragionamento che è il ragionamento per eccellenza secondo Aristotele e che sarebbe poi stato studiato, se andate avanti nel percorso, lo troverete citato varie altre volte da vari altri pensatori che riprendono il ragionamento di Aristotele, lo correggono, lo usano, eccetera. Il silogismo è una di quelle cose che in filosofia prima o poi torna, torna sempre. Però in realtà, quando facciamo quei discorsi con Aristotele, ci riferivamo a un tipo specifico di silogismo. Il silogismo che Aristotele chiama silogismo scientifico o silogismo dimostrativo. È un silogismo in cui, intanto, bisogna seguire le regole che abbiamo visto nella lezione sul silogismo, in cui bisogna che ci siano il termine medio posizionato in un certo modo, che la figura di riferimento sia una di quelle inquadrate nelle varie formule, ricordate Barbara, Cesare, eccetera, e là trovate tutto. Ma, al di là di questo, seguendo pur quelle regole, il silogismo che abbiamo visto partiva necessariamente da premesse vere. Ricordate che abbiamo fatto tutto un discorso proprio sul problema delle premesse. Cioè, se, in descrizione trovate per approfondire, se noi vogliamo dimostrare qualcosa, il silogismo si dà uno strumento efficace, secondo Aristotele, per dimostrare qualcosa a patto che, lo sapeva bene anche lui, le premesse da cui partiamo e quindi le prime due proposizioni del silogismo siano vere. Se io sono sicuro che le due premesse iniziali sono vere, allora, seguendo le regole, eccetera, posso fidarmi del fatto che anche la conclusione sia vera. E questo rappresenta un problema perché non è sempre facile, aveva detto Aristotele, trovare queste premesse vere. Quindi aveva delineato tutta una serie di metodologie per arrivare a premesse vere. Vi ricordate? C'era la possibilità di usare gli assiomi della logica, c'era la possibilità di usare le definizioni, eccetera. Vari modalità per trovare queste premesse vere, poi più o meno convincenti. Però, insomma, Aristotele pensava di aver trovato i modi per individuare le premesse vere. Però, nota Aristotele nei Topici, che è un'altra opera che scrive sempre nell'ambito logico del ragionamento, nei Topici Aristotele dice Certe volte si costruiscono dei sillogismi partendo da premesse che non sono vere, che non sono necessariamente vere. Cosa vuol dire che non sono necessariamente vere? Che magari potrebbero anche essere vere, ma non ne siamo certi. Nei sillogismi scientifici bisogna essere certi della verità delle premesse, se no tanto vale. Nei sillogismi non dimostrativi, che vengono appunto studiati nei Topici, e che sono quelli usati dalla dialettica di cui adesso parleremo, le premesse non sono necessariamente vere, cioè non sappiamo, magari lo sono anche, ma non lo sappiamo con certezza, non sappiamo se le premesse siano vere. Ma si possono costruire sillogismi non essendo sicuri delle premesse, della verità delle premesse? Risposta che da Aristotele sì, però ha sillogismi di tipo diverso. Il sillogismo che ha premesse vere e che segue tutte le regole che abbiamo visto è un sillogismo come vi dicevo dimostrativo, è un sillogismo come vi dicevo scientifico, cioè che mi permette di ampliare scientificamente, con solide basi, la mia conoscenza. Mi dimostra, partendo da premesse di cui una è sempre una premessa universale, di arrivare a conclusioni solide. Era un tipico esempio, abbiamo detto a suo tempo, di ragionamento deduttivo, vi ricordate per cui si parte da premesse generali e si arriva a conclusioni particolari solamente ragionando e effettivamente questo faceva il sillogismo dimostrativo. Tra le premesse, entrambe vere, una, almeno una, era sempre universale, per cui si trasmetteva la verità dall'universale al particolare. Facciamo un esempio, ogni uomo è mortale. Prima premessa, premessa maggiore, ha una universale, ogni uomo, vi ricordate le universali? Ed è vera, è vera per definizione, ogni uomo è mortale. Socrate è un uomo, seconda premessa, questa volta è una particolare, addirittura una singolare perché parla di un solo caso, Socrate. Socrate è un uomo, conclusione, Socrate è mortale. Ripeto, ogni uomo è mortale, Socrate è un uomo, quindi Socrate è mortale. Vera? Sì, è un sillogismo dimostrativo, certo. Se sono vere le premesse, vera anche la conclusione, le premesse sono certe che siano vere, sono necessariamente vere, è necessariamente vera anche la conclusione, ok? Era un tipico esempio, anche questo l'abbiamo appena fatto, di ragionamento deduttivo. Se però le premesse A non sono necessariamente vere e B non sono universali, allora sono davanti a un altro tipo di sillogismo, perché sono davanti, in certi casi almeno, a un sillogismo induttivo, in cui magari parto da premesse che non sono universali ma sono particolari e arrivo a una conclusione che provo a fare generale, universale, o anche parto da premesse che non sono necessariamente vere e non posso essere sicuro che la conclusione sia necessariamente vera. Ora, come avete già forse intuito, io sto facendo varie casistiche, adesso le vediamo una ad una, vediamo vari casi analizzati anche da Aristotele di sillogismi non scientifici, ma quello che conta è questo. Sappiate che il sillogismo non scientifico ha una di queste caratteristiche. O le premesse non sono necessariamente vere o non esiste una premessa universale. Queste due cose fanno sì che la verità delle conclusioni non sia mai certa. E allora perché usare un sillogismo di cui la verità delle conclusioni non è certa? Nel sillogismo scientifico sono certo di quello che dico, nel sillogismo non scientifico no? E allora che me ne faccio di questo sillogismo non scientifico? Beh Aristotele dice, in certi campi può essere utile anche il sillogismo non scientifico. Pensate ad esempio nella retorica, pensate ad esempio nella politica, facciamo un esempio molto concreto. Quando voi fate politica, ammettiamo che voi siate un retore, cioè una persona che deve parlare in pubblico, un politico. È ovvio che voi non state facendo scienza quando fate politica, state facendo politica. La scienza è una cosa, la conoscenza è una cosa, la politica non è esattamente la stessa cosa, no? Voi quando fate politica, quando usate la retorica, dovete convincere, non dovete far conoscere. La finalità è diversa. Se fate lo scienziato, se fate il filosofo nell'ottica aristotelica, dovete far conoscere e quindi dovete usare sillogismi scientifici per far vedere quanto è solido il vostro ragionamento. Se invece fate il politico, non è che voi dovete far conoscere alla gente delle cose, allargare le loro conoscenze, voi dovete convincere. Dovete usare la retorica. Ecco, la retorica, dice Aristotele, molto spesso usa sillogismi non scientifici, proprio perché è una finalità diversa che è il convincere. Capite? La differenza di questo vale per la retorica, vale anche in altri campi, vale anche per gli avvocati ad esempio. Gli avvocati quando devono difendere un imputato, diciamo questo esempio, possono usare dei ragionamenti, certo, durante le arringa ad esempio fanno dei ragionamenti. Questi ragionamenti sono sillogismi, beh possono avere anche la forma del sillogismo, magari un po' mascherato, ma avere delle premesse e tentare di giungere a delle conclusioni. Ma le premesse sono vere? E qui non lo sa nessuno se sono vere le premesse di un avvocato, no? Un avvocato tenta di convincervi che le sue premesse siano vere, ma non sono di solito necessariamente vere, no? Quindi è un sillogismo non scientifico. Mi seguite? Ecco, di cose di questo genere ce ne sono, ce ne sono parecchie. Anche in campo morale ad esempio, dice Aristotele, a volte si fanno ragionamenti di questo tipo, come è bene comportarsi, come non è bene. Anche qui spesso si gioca, si lavora sulle opinioni più che su premesse vere, si ragiona partendo da opinioni. E allora anche in questo caso non siamo davanti a scienza, siamo davanti a dialettica. La dialettica è proprio la disciplina che studia questi ragionamenti non scientifici, questi sillogismi non scientifici. Poste queste premesse vediamo qualche caso specifico e ragioniamoci sopra. Allora partiamo da un caso in cui in realtà le premesse sono vere. Vi ho detto che molto spesso la dialettica usa premesse che non sono necessariamente vere, che sono probabili, possibili, ma non certe. Bene, poi lo vediamo. Ma partiamo da un caso in cui invece abbiamo due premesse vere, solo che sono due premesse particolari. Come vi dicevo, il sillogismo scientifico ha premesse vere, necessariamente vere, e almeno una premessa universale. Quando non c'è nessuna premessa universale siamo davanti invece a un sillogismo diverso, che Aristotele chiama sillogismo induttivo. Fa un esempio Aristotele, ve lo mostro anche a schermo, così partiamo dall'esempio e poi ci ragioniamo. L'esempio è questo. L'uomo, il cavallo e il muro sono longevi, prima premessa. L'uomo, il cavallo e il muro sono privi di bile, seconda premessa. Tutti gli animali privi di bile sono longevi. Conclusione. Come vedete è un sillogismo, o meglio ha la struttura del sillogismo, ha due premesse e una conclusione. Se sono vere le premesse tende a farci pensare, deve essere vera anche la conclusione. Solo che guardiamo la forma di queste tre proposizioni. Le prime due e le due premesse sono entrambe due premesse particolari. Vi cita tre animali, l'uomo, il cavallo e il muro e vi dice una loro caratteristica. Seconda premessa. Prende lo stesso, usa come termine medio il soggetto in entrambe le premesse. L'uomo, il cavallo e il muro, di nuovo, sono privi di bile e poi trae una conclusione. Tutti gli animali privi di bile sono longevi. Prende il termine minore, lo mette insieme al termine maggiore. Vi ricordate che si fa così il sillogismo, no? Il termine medio collega le due premesse e poi nella conclusione c'è il termine minore come soggetto e il termine maggiore come predicato. Ora, in questo caso, la struttura, almeno così all'apparenza del sillogismo, è rispettata. Solo che, come vi dicevo, tutte e due le premesse non sono universali, sono particolari, perché la conclusione vi dice tutti gli animali privi di bile. La conclusione è universale. Inizia con la parola tutti e vi dice tutti gli animali privi di bile. Nella seconda premessa, dove parla proprio della bile, non vi dice tutti gli animali sono privi di bile. Vi dice l'uomo, il cavallo e il muro. Tre tipi di animali. Ma gli animali, non sono solo questi tre, ce ne sono tanti dei tipi di animali. Quindi nella seconda premessa vi sta prendendo tre esempi all'interno di un insieme più grande. Immaginiamoci l'insieme degli animali. Dentro vi prende tre casi e vi dice sono privi di bile. E poi nella conclusione vi dice però tutti gli animali privi di bile sono longevi. Non è mica detto, no? Potremmo aver preso solo i tre casi specifici che sono sia privi di bile che longevi, ma non è detto che tutti gli animali privi di bile siano longevi. Capite? È il tipico caso di un ragionamento induttivo. Si prendono delle osservazioni particolari, delle verità, se volete, in questo caso particolari, e poi si astrae una verità generale. Ma il limite del ragionamento induttivo, lo dicevamo già a suo tempo, è proprio questo. Che per quante conoscenze particolari io abbia, non posso essere certo che quelle conoscenze particolari giustifichino una conoscenza universale. facciamo un altro esempio, ancora più, questo qua è l'esempio aristotelico, che secondo me dovreste aver già capito, ma io ne faccio uno più la palissiano, più immediato proprio per capire dove vuole andare a parlare Aristotele. Usiamo lo stesso meccanismo, la stessa struttura del silogicismo, ma usiamo termini diversi. Ve lo mostro a schermo. Questo è mio, non è un esempio aristotelico. Opponiamo che la prima premessa sia, Marco è biondo. Seconda premessa, Marco è crudele. Tutti gli uomini crudeli sono biondi. Allora, vedete che questo silogismo è uguale, non struttura ve lo mostro, in parallelo all'altro, a quello di prima. Perché al posto di uomo, cavallo e muro abbiamo usato Marco, al posto di longevi abbiamo usato biondo e al posto di bila abbiamo usato crudele. Però, invertendo i termini, dovrebbe funzionare sempre. Allora, mettiamo che le due premesse siano vere. Mettiamo che questo signor Marco di cui ho parlato sia sia biondo che crudele. Può essere, può esistere un uomo di nome Marco che sia biondo e crudele. Poniamo che io lo conosca davvero, un signor Marco di questo tipo, e quindi dica, le due premesse sono vere. Ma la conclusione è vera. E in questo caso no. Non è vero che tutte le persone crudeli sono bionde. Non è vero, non è possibile neppure dimostrarlo, perché abbiamo un caso solo. Potrebbe essere una banalissima coincidenza. Giusto? Anche ne avessi due, anche ne avessi tre, non potrò mai dire tutti i crudeli sono biondi. Perché? Perché per dire che tutti i crudeli sono biondi, tutte le persone crudeli sono bionde, devo poter aver conosciuto ed essere certo che davvero tutte le persone crudeli del mondo siano bionde. Cosa che è umanamente impossibile. Questo è il limite classico del ragionamento induttivo, per cui io posso avere anche delle conoscenze particolari. Ma queste conoscenze particolari tendenzialmente non mi giustificano il passaggio a una conoscenza universale. Poi è chiaro, dice Aristotele, che questo silogismo certo ha dei difetti, ma ha anche dei pregi. È un silogismo induttivo, io avevo stato subito il principale difetto. Ma Aristotele dice, sì lo so che non è scientifico, sì lo so che non mi trasmette una verità certa e quindi devo prenderlo con molta cautela un ragionamento di questo tipo. Però, dice anche Aristotele, a volte possono essere utili anche i silogismi di questo tipo, possono essere utili anche i silogismi induttivi. Perché? Perché poniamo il caso che io non prenda solo Marco, un caso singolo, ma che io analizzi tanti casi. Prima vi ho detto l'uomo, il cavallo e il mulo. Quello che abbiamo detto, l'esempio di Aristotele, potrebbe essere un esempio che non mi dà una conclusione certa. Non è affatto detto che tutti gli animali senza bile siano longevi. Però mi potrebbe dare uno spunto, un suggerimento. Guarda caso, ho trovato tre animali. Quindi tutti gli uomini, tutti i cavalli e tutti i muli, non solo tra casi, ma tre gruppi grossi, che sono sia longevi che prevedibili. Allora questo silogismo, pur non dandomi alcuna verità, pur non dandomi alcuna dimostrazione scientifica, perché non è un silogismo dimostrativo, mi può dare uno spunto d'indagine. Mi può dire, guarda caso, guarda la coincidenza, che forse non hanno una coincidenza, sono prevedibile e sono longevi. Che ci sia un legame. Mi può aprire un aspiraglio alla ricerca, ad esempio. Ma questo può essere tanto più utile, ad esempio, in politica. Pensate quante volte i politici, gli avvocati, i pubblicitari giocano su questi tipi di ragionamento e qui vi dicono, guarda, è successo questo fenomeno e è successo quest'altro fenomeno. Macrofenomeni, che so, abbiamo abbassato le tasse e l'economia è ripartita. Sono legati due fenomeni. Potrebbero, non ne siamo certi però, di solito, a meno che non studiamo economia, non facciamo degli studi molto approfonditi, non abbiamo la certezza che le due cose siano di per sé interdipendenti. Può darsi di sì, può darsi di no, può darsi che lo siano in parte. Però il politico cosa fa quando fa il suo comizio elettorale? Io ho abbassato le tasse, l'economia è ripartita. Quindi, quello che faccio io funziona. Quindi, come vedete, vi ho dimostrato scientificamente che le mie mosse economiche hanno portato frutto. Non l'hai detto. Non l'hai dimostrato scientificamente. Hai dimostrato retoricamente. Hai fatto un ragionamento di tipo induttivo. Hai preso un fenomeno, hai preso un altro e hai detto tutte le volte che io sono al governo l'economia va bene. Non l'hai detto che tutte le volte, magari è data bene l'altra volta, adesso andrà male. Capite? Quindi, in retorno, quando si fanno discorsi per convincere le persone, spesso si usano strategie di questo tipo. Si parte da casi specifici che magari possono essere anche veri. Può essere vero che il tal politico ha abbassato le tasse. Può essere anche vero che in quel periodo l'economia è salita. Mettiamo che siano vere entrambe le premesse, ma hanno detto che sia vera poi la conclusione che tende a creare una legge universale sul tema. Capite? E questo lo fanno i politici, questo lo fanno i pubblicitari, questo lo fanno gli avvocati. È normale usare sillogismi di questo tipo, sillogismi induttivi che sono molto persuasivi, se uno li sa usare bene. Se uno non cita un solo caso, come il mio esempio di Marco, ma cita esempi più complessi, con più casi, possono essere molto persuasivi. Quindi Aristotele dice, attenzione, sappiatelo, sono sillogismi? Sì. Sono persuasivi? Sì. Possono offrire anche degli spunti interessanti? Certo, possono darci una, aprirci un'ipotesi lavorativa, possono farci suonare un campanello d'allarme, possono essere interessanti, ma non sono scientifici. Quindi, attenti, quando vi dicono che sono scientifici, non lo sono in realtà. tentano di convincervi che siano scientifici. Poi magari non è detto che non siano veri, vi ho detto che il sillogismo dialettico, il sillogismo non scientifico, non è detto che sia falso, ma è che non siamo certi che sia vero, questa è la differenza. Le premesse non è detto che siano false, la conclusione non è detto che sia falsa, è che non siamo certi che sia vera, questa è la differenza. Nel caso di prima dell'uomo, il cavallo e l'animale, l'uomo, il cavallo e il mulo, erano vere le premesse e la conclusione potrebbe anche essere vera, ma non lo sappiamo con certezza. Detto questo concludiamo, perché come vedete la lezione di oggi non è particolarmente lunga e più o meno spero di aver già dato delle direttrici chiave, chiare, e direttrici anche chiave. Concludiamo con un discorso veloce su altri tipi di ragionamento dialettico, di sillogismi non dimostrativi. Il primo tipo è quello che riguarda le opinioni notevoli. Dice Aristotele, come vi dicevo anche prima io, a volte le premesse non sono vere. Nell'esempio che vi ho fatto prima del ragionamento induttivo le due premesse erano vere. È vero che l'uomo, il cavallo e il mulo sono longevi e l'uomo, il cavallo e il mulo sono prevedibili, che è quel marco di cui parlavo il biondo e che è quel marco di cui parlavo il crudele. Sono vere. Ma a volte le premesse non sono neppure vere, sono solo probabili. Come vi dicevo anche all'inizio. E allora? Beh, anche in questo caso abbiamo un ragionamento, che è ovviamente un ragionamento che non trasmette alcuna verità, perché se non sono neppure certo che siano vere le premesse come posso essere certo che siano vere le conclusioni. Però a volte ci possono essere delle opinioni in questo campo che vale la pena di ascoltare, perché quando io ho premesse che non sono vere, che non sono sicuro siano vere, sono davanti a opinioni ovviamente. Ad esempio quando un filosofo morale, che si occupa quindi di comportamento umano, mi dice tutti gli uomini sono nel loro cuore crudeli. Tutti gli uomini sono nel loro cuore crudeli. Questa frase, non lo so se sia vera o falsa, se pensiamo alla storia della filosofia, alcuni l'hanno sostenuta, alcuni l'hanno contraddetta, no? Pensate a Hobbes che farete più avanti, magari in descrizione vi metto un link, Hobbes era molto pessimista, pensava che tutti gli uomini avessero questa bramosia naturale che li portava a essere crudeli. Ecco, in certe condizioni soprattutto gli faceva essere crudeli. Allora, poniamo questa frase, tutti gli uomini sono crudeli. Questa frase non posso dire se sia vera o falsa. È una frase che potrebbe essere vera, potrebbe essere falsa. Non ho gli strumenti per valutarla, dal punto di vista logico, sulla sua verità. Allora dice Aristotele, qualsiasi filosofo o moralista che ragiona a partire da queste premesse fa un ragionamento, è chiaro che non fa un ragionamento scientifico. Però, quindi fa un ragionamento solo probabile. Però a volte sentire l'opinione di un grande pensatore su queste cose può essere interessante. È chiaro che siamo nel campo non più della scienza ma dell'opinione, come vi dicevo. Però certe opinioni notevoli, le chiama così Aristotele, vale la pena ascoltarle. Quindi, quando c'è un uomo che fa un ragionamento in cui sappiamo bene che le premesse non sono vere, o meglio, sappiamo bene che le premesse non sono necessariamente vere, cioè non siamo sicuri che siano vere, potrebbero esserlo come no. Ma fa un ragionamento, vale comunque la pena riascoltarlo, perché le opinioni notevoli ci danno comunque una qualche indicazione, soprattutto nell'ambito pratico, dice Aristotele. Qui il campo in cui possiamo usare questi tipi di ragionamento non è tanto quello della scienza e della conoscenza, perché lì bisogna essere molto più rigorosi, ma dell'attività pratica, ad esempio la morale. Come vivere? Come mi devo comportare? È giusto far così? Giù è giusto far così? Lì bisogna accettare, sembra dice Aristotele, che in certi ambiti non c'è certezza e allora meglio, in un certo caso, piuttosto che brancolare completamente nel buio, meglio accontentarsi di un ragionamento debole, di una opinione notevole di uomini saggi che mi possono dare qualche indicazione. Quindi viene accettato anche un sillogismo, ripeto, che parte da premesse non necessariamente vere. Ovviamente questo ci permette però di fare anche una conclusione, di trarre una conclusione su questa dialettica. La dialettica che è la disciplina che studia questi ragionamenti deboli, questi sillogismi non dimostrativi, che ruolo ha nel sistema aristotelico? Perché ricordate che Platone aveva parlato anche lui di dialettica, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, e le aveva dato un ruolo fondamentale, perché la dialettica era la scienza che collegava tra loro le idee, vi ricordate? Vi metto un link in descrizione. E quindi diventava la scienza suprema delle idee, la dialettica per Platone, diventava la disciplina più importante di tutte, da un certo punto di vista. Ecco, Aristotele invece ritiene che la dialettica sia una disciplina, tra virgolette, minore, nel senso che la logica ci dà strumenti per conoscere con serietà, con solidità, per arrivare a verità. La dialettica ci dà strumenti deboli, ci porta a ragionamenti deboli, ci porta al trionfo dell'opinione, ci porta al probabile, non al certo. Al probabile, che è qualcosa, ma non al certo. Quindi non è che la svaluta completamente Aristotele, dice l'edettica, in certi campi può essere utile, ma allo stesso tempo, pur non svalutandola completamente, la ridimensiona parecchio rispetto a Platone. Le dà un ruolo sicuramente di tono minore. Quindi, ripeto, possiamo anche identificarla così. Dialettica uguale, ragionamento debole. un ragionamento che sembra avere i crismi del buon ragionamento, ma che in realtà ha dei difetti. E questo lo si vede soprattutto parlando di problemi e di ragionamenti eristici, perché Aristotele fa qualche cenno anche su queste tematiche. I problemi sono questioni su cui si possono dare risposte contraddittorie. La dialettica non ci dà gli strumenti per risolvere questi problemi e quindi, alla fine, si può pensare in un modo, si può pensare nell'esatto opposto e non sappiamo qual è la verità. D'altronde, quando diciamo che questi ragionamenti non portano a verità certe, ma solo a verità probabile, è chiaro che in certi casi possono anche aprirci la strada a due soluzioni contraddittorie. Quindi questi sono i problemi. Questioni di ragionamento che non hanno una soluzione univoca, ma che ne hanno due contraddittorie. I ragionamenti eristici sono, li chiama così Aristotele, sono i ragionamenti dei sofisti. I sofisti, dice Aristotele, guardate che non usano la logica, il silogismo scientifico, usano sempre e solo la dialettica, cioè il silogismo non scientifico. Ma non solo, perché il silogismo non scientifico può avere anche una sua dignità. Ecco, i sofisti usano un silogismo non scientifico ancora peggiore di quelli che abbiamo visto noi. Perché vi ho detto, nel silogismo non scientifico, come ad esempio le opinioni notevoli dei moralisti, vi ho detto, le premesse non siamo sicuri che siano vere. Possono essere probabili. Ecco, se le premesse sono almeno probabili, posso imbastire un ragionamento che può avere una sua dignità. Ma i sofisti usano dei ragionamenti che sembrano probabili, ma non lo sono neppure in realtà. Quindi i sofisti, oltre a usare il silogismo non dimostrativo, oltre a usare questo silogismo di tono minore, finiscono anche per imbrogliare un po' le carte e per far sembrare probabile ciò che non lo è. E quindi questo ragionamento eristico è il peggiore dei ragionamenti. È quello che non serve a nulla, anzi è quello che ci trae in inganno. Quindi attenzione, dice Aristotele, a questa dialettica. La dialettica non ci porta a verità, ci può portare a conclusioni probabili, ci può portare a conclusioni interessanti, ma ci può anche trarre in inganno. E chi usa questi ragionamenti eristici ci trae in inganno. Ecco, questo era quello che secondo me c'era da dire sulla dialettica in Aristotele per chiudere la pagina della logica, parlare anche di questo tipo di silogismo. Spero vi è sentato chiaro, spero che le cose siano anche collegabili a quello che abbiamo già detto prima, comunque in descrizione trovate come al solito i link che ho citato. Vi ricordo che oltre a questo, sempre in descrizione trovate anche i titoli che sono comparci qui, perché il video è diviso in capitoletti, potete riascoltare se volete delle parti, se non vi sono chiare. In più trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale. Potete iscrivervi al canale e cliccare sulla classica campanella, ma poi potete anche, se volete, seguirmi sui social network, seguirmi sulla newsletter settimanale gratuita che mando una volta a settimana e per abbonarsi c'è il link sotto in descrizione. E poi, se vi piace quello che faccio, se volete darmi una mano, ci sono in descrizione anche i modi per sostenere il canale. Mi stiamo avvarando in questi giorni di nuovi, più semplici anche da usare, perché mi scrivete in tanti chiedendo come fare e non riuscite mai con quelli tradizionali, stiamo cercando dei modi più semplici, molto poco economici, cioè molto poco costosi, pochissimi euro per chi vuole donare qualcosa e darci una mano. Grazie dell'attenzione, ci vediamo presto per altri video di storia e filosofia ed educazione civica. Ciao, alla prossima!